è uno strumento principalmente che ci servirà per rendere più precise le forature dei nostri libri quindi ci servirà principalmente per la legatoria cucita veramente anche quella semplice che già sappiamo fare e poi anche soprattutto poi nella nella preparazione dei libri che vorrei farvi fare nei prossimi incontri e che sono composti da più fascicoli insieme e quindi questo strumento che vi voglio proporre oggi in registrazione ci permetterà di forare i fogli in maniera molto più precisa e anche in molto più più comoda Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!